Per la presentazione del rapporto 2018, Cobat ha scelto lo splendido scenario del Museo Maxi qui a Roma. Siamo con il direttore generale Michele Zilla. In un anno Cobat ha riciclato e mandato al recupero, ha dato nuova vita, ben 140.000 tonnellate di rifiuti tecnologici. Nel suo intervento ha illustrato i settori, le prospettive future di Cobat. Ricordiamo innanzitutto i dati. In che settore Cobat ha portato avanti il suo impegno per l'economia circolare? La prima cosa, prima di parlare di raccolta di rifiuti, noi dobbiamo tenere conto quanto immettono al consumo i produttori che aderiscono al Cobat. Noi abbiamo 1200 società che immettono al consumo, pigli accumulatori, applicature elettroniche e pneumatici fuori uso e sono circa 300.000 tonnellate. L'immesso al consumo determina una capacità di raccolta. Noi dobbiamo raccogliere la quota di mercato corrispondente all'immesso al consumo, fatto salvo i tassi di ritorno. Quindi noi abbiamo raccolto 140.000 tonnellate quest'anno, nel 2018. La linea di lavoro sono state tre. La più significativa, perché noi rappresentiamo il 57% della quota di mercato, è costituita da pile accumulatori. Gli accumulatori in modo particolare abbiamo raccolto 116.000 tonnellate, le pile di provenienza domestica, quindi quelle che vengono raccolte presso i comuni e le municipalità, sono state 6.000 tonnellate. L'altra linea di lavoro molto importante, rappresentata dalle apparecchiature elettroniche, immettiamo al consumo circa 69.000 tonnellate. Tenete conto che con i tassi di ritorno noi abbiamo raccolto 19.000 tonnellate. Queste 19.000 tonnellate le abbiamo raccolte in tutta Italia, perché noi dobbiamo avere e abbiamo una capacità territoriale di raccolta nazionale, comune per comune, piazzola per piazzola, e cerchiamo di non lasciare per quello che è compito il COVID nulla di intentato. Quindi cerchiamo di raccogliere tutto quello che si può raccogliere. L'ultima linea è un po' più modesta, perché è appena iniziata, nel 2018, la linea dei pneumatici fuori uso, abbiamo solo raccolto 2.000 tonnellate, mentre per il 2019 i produttori che sono aderenti al Cobat ci hanno dato un incarico per raccogliere 27.000 tonnellate di pneumatici fuori uso. Quali ora le prossime sfide da vincere? Le sfide da vincere non sono tanto sulla raccolta, perché questo della raccolta è un modo soprano di continuo, costante, ogni anno noi dobbiamo raccogliere una corrispondente quota in quanto i produttori mettano al consumo. La sfida sul futuro è sulle nuove modalità di consumo. Facciamo un esempio, stiamo vedendo, come tutti possono vedere, vi è un grande sviluppo dalla scenica economy, la condivisione, prendiamo le macchine che sono la Enjoy, la 500 rossa in giro per le città, bene, diminuiscono gli acquisti dei cittadini per ogni singolo prodotto. Si usa il prodotto, ma il prodotto è condiviso. Quindi il consumatore non è più il detentore del rifiuto, pertanto cambia completamente il paradigma. Noi dobbiamo cercare di trovare soluzioni operative a questo per raggiungere sempre migliori risultati.